racconti di paura la scuola maledetta di jesse e mickey luisa e gianni stavano camminando verso la scuola e ad un certo punto il prof di arte gli disse di correre perché erano in ritardo i bambini corsero ma nella scuola non c'era nessuno ad un certo punto sbucò il prof di arte e gli disse eccovi già qui e se li mangiò in un solo boccone mi raccomando se questo video ti è piaciuto non dimenticare di iscriverti al canale youtube di 10 lol per diventare parte della nostra community iscriviti anche alla pagina facebook e alla google plus page di 10 lol così da rimanere aggiornato su tutte le news sulle tue star preferite ci vediamo alla prossima ciao ciao